Sanzo! Grazie a tutti. Non facciamo nessuno. Non da piccari. Sentriamo di spingere. Non va di spingere. No, no, noi siamo ancora. Il venire. Occhio di riguardo. Faccio pure un. E siamo sportivi. Spirito sportivo. Noi siamo sportivi. Piacere, grazie. Piacere, grazie. Guarda come cuore veloce. Accidenti, un peccato. Dai, dai, dai. Dai. Ma come vanno via? I li riprendono. Ma che li riprendete, dai. Ce la fate. Peccato. Peccato. Andavano via bene questi qua. E' sempre qua? E' sempre qua. Ci sono le mascherette. No, sciocca in me. E' sempre qua. Eh, sì. Ma se la avevi sempre. No, no. No, no. 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 Non è il la regata? No. 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 Il delirio, la manifestazione in particolare rispetto alla regata storica, cioè il fatto che non ci sia la competizione esalta i valori di quello che è lo sport. Sì, 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 ma ti dico, non è solo sport, è anche identità culturale, identità di un popolo, che è il popolo che vive, veneziano che vive nella laguna, con la laguna, di certo anche la storica è bellissima, però l'entra l'agonismo, l'agonismo anche a livelli eccessivi, che fa parte del gioco. Poi c'è Ghezzo, dai! Ah, Bollice, Bollice, il professor Bollice! Dai, amati! Dai Sandro, dai, dai! Dai, che ne ha fumo! Tutti di che scuola sono? No, noi no, è Ghezzo! Ah, sì, davvero! Dai, visse, dai, visse! Amorgo! Se ne arriva! Dai Francesco! Francesco! Dai Giovanni! Qua c'è... Dai Luca! Dai Luca! Claudio vai! Vai! Vai ci, ti... Sì, è un po' di pazzi notti, no? Non ci sono mai vissi. Dai! Ma lo abbiamo tutti? No, intanto, le hanno presi per... Dai! Non vedi, dai! Come la bicicletta, insomma. Non devi fare la strada... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.